L'ho trovato. Abbiamo ciò che cercavamo. Professore, occupati di quei Witcher. Ho sentito dire che i Witcher sono in grado di parare i dardi in volo. Vediamo. Leo, fermati! Un'altra fiaba per bambini. Cos'è successo? Tostole schiacciate, polmoni perforati. Sta morendo. Ha bisogno del decotto di Raffard bianco! Tieni duro, Leo! Era proprio qui. Non riesco a trovarlo. Vesemir, Leo è morto. Vesemir, Leo è morto.